In Italia ci sono due registi per me, uno è Fennini e l'altro Antonioni. È uno degli autori più cercati sui social e ciò non stupisce, soprattutto per i suoi pungenti aforismi e per la sua eterogenea carriera. Scrittore, sceneggiatore, autore teatrale, sono passati 50 anni dalla morte del pescarese illustre Ennio Fleiano e l'associazione a lui dedicata, preseduta da Carla Tiboni e fondata dal padre Edoardo, vuole dedicargli al Florian lo spettacolo teatrale Il caso Papaleo a cura di Giulia Basel il prossimo 19 novembre. Dimentichiamoci che Ennio Fleiano è stato uno scrittore di teatro con delle opere molto importanti, 5 per la precisione, e Giulia Basel porterà in scena Il caso Papaleo, che è un po' in fondo lo specchio di Ennio Fleiano. Questo sabato presso il Florian alle ore 18 e stupito dopo ci sarà una lettura e un incontro, magari meglio, più preciso, con Lucilla Sergiacomo che ultimamente ha pubblicato un nuovo libro su Fleiano che in circa 250 pagine ci spiega alla perfezione l'autore, il giornalista, lo sceneggiatore e lo scrittore. Non solo in vista della cinquantesima edizione dei premi Fleiano, Carla Tiboni ha annunciato una serie di iniziative. Gli eventi saranno il teatro, saranno il cinema, retrospettive di cinema, ci sarà un festival del giornalismo e della fotografia, ci sarà musica, tanta musica da film, ci sarà anche il 48 corto, una nuova, diciamo, un'idea che è venuta fuori da una delle collaboratrici, e cioè entro 48 ore coinvolgere tutte le scuole di Pescara e realizzare un cortometraggio per ogni mese fino a luglio, con un premio evidentemente per chi realizzerà il cortometraggio più importante, perché tra le altre cose Ennio Fleiano è stato anche un documentarista. Come vedete la cinquantesima edizione è importantissima, ma cercheremo anche di renderla ricchissima. Ma resta l'amarezza dell'alienazione del comune di parte dell'ex tribunale che ospita il Media Museum? Ma più che l'amarezza resta il fatto di dover rimodulare il progetto originario, di dover ripensare in parte il MOC, però resta la certezza che il MOC si farà, viste anche le dichiarazioni, mi sembra, dello scorso martedì, da parte sia del sindaco sia dell'assessore alla cultura. Vecchie e nuove immagini di Pescara, soprattutto sulla casa di D'Annunzio, così come me la ricordo io.